In sostanza quella sua lettura lo portò siffattamente all'entusiasmo da non distinguere più la notte dal dì e il dì dalla notte, di guisa che per soverchio leggere e per il poco dormire gli s'indebolì il cervello e addio buon giudizio. Altro non presentavasi alla sua immaginazione che incantamenti, contese, battaglie, disfide, ferite, concetti affettuosi, amori, affanni ed impossibili avvenimenti e a tale eccesso pervenne lo stravolgimento della fantasia che niuna storia del mondo gli pareva più vera di quelle ideate invenzioni che andava leggendo.